Ed eccolo qui il movimento Vanterpool, guardate, quando le spalle invece che puntare verso il canestro, guardate le spalle, puntano dall'altra parte, è il momento in cui Vanterpool vuole ripartire. Abbiamo allungato questo attimo proprio per farvi capire che questo è il momento in cui il difensore si deve preoccupare, invece il difensore si rialza e commette un errore. Grazie a tutti.